semaforo verde al terzo mandato partono le strategie elettorali nuovo questore a pesaro saluta clemente arriva francesca montereali si sblocca l'incompiuta della guinza cantiere al via giorno della memoria pesaro prepara un lungo lunedì di appuntamenti comuni capitale della cultura dopo valle foglia tocca a petriano A presto Buona serata a tutti voi amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione serale di Rossini News. Telegiornale del Canale 80 che in questa edizione di venerdì 26 di gennaio apriamo con la politica. Ieri vi abbiamo annunciato la novità del terzo mandato per tutti i sindaci dei comuni fino ai 15.000 abitanti ed è un provvedimento che rimette in lizza tanti sindaci della nostra provincia che erano arrivati al decimo e fino a ieri ultimo anno del loro percorso amministrativo. L'approvazione del terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti e l'abolizione di ogni limite di mandato per i comuni sotto i 5.000 abitanti di fatto sblocca la campagna elettorale dei 38 comuni pesaresi al voto nelle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno. Ricci e Seri, sindaci di Pesorefano, unici comuni dalla demografia abbondantemente sopra la soglia del provvedimento, sono di fatto gli unici primi cittadini non ricandidabili della provincia. Ci sono una trentina di comuni sotto i 5.000 abitanti in cui si potrà di fatto essere sindaci a vita e poi ci sono nove sindaci di comuni sopra i 5.000 abitanti che di fatto rientrano nella partita elettorale. A cominciare da Urbino che proprio ieri ha ottenuto lo status di capoluogo di provincia alla stregua di Pesaro vincendo una battaglia legislativa attesa da decenni. Gambini non si sbilancia ma viaggia verso la ricandidatura al pari di Alberto Alessandri che punta a ricandidarsi a Cagli. Probabile anche il tris di Enrico Rossi a Cartoceto. Non si ricandiderà invece a Tavuglia Francesca Paolucci, valutazioni in corso a Gabicce Mare per Domenico Pascuzzi, a Montelabate per Cinziaferri e a Urbania per Marco Ciccolini. Di problemi non ce n'erano a Pergola con Simona Guidarelli che sta concludendo ancora il primo mandato. A Vallefogli invece il dubbio era di aver svalicato quota 15.000 abitanti, ma a Farfede sarebbero i dati Istat 2022 che terrebbero ancora sotto soglia il terzo comune più popoloso della provincia. Ucchielli però non si sbilancia su un eventuale terzo mandato. Io non mi sono mai autocandidato a nulla, valuteremo insieme quello che serve per fare in modo che ci possa essere una continuità, perché non è solo il sindaco. Noi abbiamo fatto sempre un grande lavoro di squadra, della Giunta, del Consiglio, della maggioranza, ma anche con le minoranze, abbiamo sempre collaborato per il bene della città, per il bene della comunità. Quindi valuteremo nel momento in cui è convertito in legge il decreto per quel che mi riguarda e poi decideremo insieme come sempre. Ultimissimi giorni di incarico per il questore di Pesero Urbino, Raffaele Clemente, che andrà in pensione alla fine di questo mese di gennaio, dopo essere arrivato a Pesero nell'estate 2022. Al suo posto per la prima volta ci sarà un questore donna, si tratta di Francesca Montereali, dirigente superiore del compartimento di Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige. Entrerà in servizio a Pesero dal 1 febbraio. Domani, il 27 gennaio, sarà trascorso un mese dalla tragedia stradale che funestò la fine del 2023 nella nostra provincia. Parliamo dell'incidente in cui morirono i quattro occupanti di un'ambulanza della Potes di Fossombrone, che si scontrò frontalmente con un pullman di minori in gita durante il transito nella galleria Cagulino di Urbino. A perdere la vita furono il medico Socoloxa, l'infermiera Cinzia Mariotti, l'autista soccorritore Stefano Davide Sabatini e il paziente Alberto Sabatini. Serfilippi. Ad un mese di distanza domani saranno commemorati dal comune di Fossombrone con una piantumazione di quattro ulivi che sarà celebrata alle 11.30 nell'area verde dell'ospedale Cittadino in presenza dei familiari delle vittime. Ricordiamo che ad un mese di distanza è tuttora chiusa il transito la galleria Cagulino per i gravi danneggiamenti rimediati. E ora parliamo di un'altra galleria ma per un motivo positivo, ovvero la guinza in prossimità di Mercatello sul Metauro che vede sbloccarsi l'incompiuta delle incompiute attivando il cantiere per il ripristino il prossimo 12 di febbraio. Dopo decenni di attesa si riparte. Il 12 febbraio verranno consegnati i lavori per il ripristino della galleria della guinza sulla Fano Grosseto in un unico senso di marcia in direzione Marche Umbria. Un appalto da 94 milioni di euro aggiudicato dal Consorzio Stabile Europeo Costruttori che adeguerà a due corsie i sei chilometri di galleria e i quattro tra la guinza e Mercatello Ovest. La consegna dei lavori è fissata per il 25 agosto 2026. Oltre 900 giorni per un'opera in cui l'assessore regionale all'infrastruttura Francesco Baldelli ha recuperato il progetto originario che fu coordinato a inizio anni 2000 dall'ingegnere Alberto Paccapelo della provincia. 12 febbraio, segniamoci questa data, sarà la data in cui verranno consegnati i lavori per l'apertura della galleria della guinza e per l'itinerario europeo che collega Fano con Grosseto. La galleria della guinza, un'opera chiave non solo per collegare i nostri mari, l'Adriatico e il Tirreno, ma un tassello fondamentale nei corridoi europei di trasporto che collegano la Turchia e i Balcani col porto di Ancona e i porti della penisola eberica. Di questo collegamento tra il porto di Livorno e il porto di Ancona non solo parlava, ma già progettava Napoleone nel 1806 e questo collegamento attraversava proprio il comune di Mercatello sul Metauro per arrivare a Fano e poi scendere fin verso Ancona. Sono trascorsi oltre 200 anni di cui gli ultimi 50 passate ad ascoltare promesse che mai si sono realizzati. Oggi ci siamo, grazie alla giunta Acquaroli e al governo Meloni, sblocchiamo le Marche, sblocchiamo il centro Italia, sblocchiamo l'Italia. Ma attenzione, avremo anche dei problemi e delle difficoltà, ad esempio i problemi che ci stanno a cuore di quei cittadini che vedranno i lavori attraversare i propri territori. Staremo particolarmente attenti a quei lavori nel limite delle nostre possibilità, ma ancora una volta sottolineiamo come le difficoltà di oggi, saranno le grandi opportunità di domani, le opportunità per l'economia delle Marche, del centro Italia e dell'Italia. E domani 27 di gennaio, come di consueto, ricorre il giorno della memoria delle vittime della Shoah. Quest'anno la ricorrenza casca di sabato in rispetto dello Shabbat ebraico. A Pesaro si è deciso di dirottare gran parte delle celebrazioni nella giornata del lunedì 29 gennaio dalla mattina alla sera, come ci spiega l'assessora Camilla Murgia. Il giorno della memoria 2024 non poteva essere una cerimonia consueta come siamo abituati ad ospitare in questa città. Come sempre le scuole sono in prima linea in quella che è la progettazione, il protagonismo in questa giornata importante, che nel 2024 oltre alla cerimonia istituzionale si arricchisce anche di un palinsesto, di un programma molto più articolato che inizia al mattino con il consiglio comunale istituzionale e poi continua durante la giornata fino alla sera con l'ultimo appuntamento alle 9 sempre al teatro sperimentale con un contributo musicale dell'Associazione Libera Musica e lo spettacolo monologo di Paolo Floris Storia di un uomo magro. Tutta la giornata, come dicevo, è organizzata insieme alle scuole e grazie a loro anche gli appuntamenti del pomeriggio e lo stesso consiglio comunale della mattina avranno la fortuna di avere la capacità e la possibilità di partecipazione dei studenti e delle studentesse alle tante iniziative, tra cui la presentazione di un libro in Sala Rossa alle 16.30 dei lunedì 29 gennaio, organizzato dalla nuova scuola dell'Istituto Professionale Benelli di Pesaro e poi ci sposteremo a Palazzo Gradari per l'inaugurazione di una mostra a Besa, un codice d'onore, organizzato insieme al Liceo Mamiani e al Santa Marta di Pesaro. Un programma molto articolato che vuole parlare quest'anno di un aspetto legato alla Shoah particolare che è quello dei giusti tra le nazioni. L'immagine della locandina di quest'anno del giorno della memoria è frutto del lavoro di una scuola primaria di Villa Fastigi, dell'Istituto Comprensivo Galilei, che già dallo scorso anno scolastico aveva sollecitato la creazione di un giardino dei giusti a Pesaro. Ho ripreso questa loro idea, insieme all'assessorato Alfare cercheremo di portare a termine la creazione entro questo anno scolastico del giardino dei giusti a Villa Fastigi, ma è stato anche un po' lo spirito con cui le scuole hanno affrontato la riflessione sul giorno della memoria quest'anno. Per noi la memoria è un senso civico, non è soltanto ricordare quello che è stato nel passato, ma guardare quello che di giusto e di corretto dobbiamo fare noi oggi, anche per dare la possibilità le nuove generazioni, di guardare al futuro con più slancio e in questo mondo contemporaneo così complesso e anche tempestato di guerre qui intorno al nostro Stato è importante continuare a ribadire la posizione non solo dell'amministrazione ma di tutto un tessuto sociale della città che è sempre stato in prima fila per la pace, il dialogo e di conseguenza la speranza. Sarà Petriano il secondo comune capitale per una settimana. In questo servizio vediamo cosa proporrà il secondo capitolo del progetto di Pesaro 2024 50x50 capitali al quadrato. Mentre a Vallefoglia il nuovo Teatro Santi di Bottega va concludendosi la prima settimana del progetto 50x50 capitali al quadrato, per il secondo passo Pesaro 2024 si sposta di appena una manciata di chilometri, ovvero Petriano protagonista della seconda settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio focalizzata su due appuntamenti portanti. Un'idea vincente, ringrazio particolarmente il comune di Pesaro e tutto il suo staff perché ci ha permesso a tutti i comuni della provincia di partecipare a questo evento importantissimo per il nostro territorio. C'è entusiasmo all'interno del paese, all'interno delle associazioni e comunque dalla prossima settimana avremo due sere in cui ci saranno sia dei residenti che non con le associazioni che hanno organizzato questi due bellissimi eventi primari. Poi ci sono altri piccoli eventi che comunque rappresentano questa settimana. Il primo di febbraio che sarà un concerto alla chiesa di San Martino nel castello di Petriano di pianoforte con l'intervento del coro polifonico in canto e poi la serata del 3 di febbraio abbiamo un'edizione speciale del Festival di Gallo d'Or, lo facciamo a Gallo, al Centro Sociale, alle 9. È un festival per noi molto molto importante quindi lo vogliamo riproporre e lo vogliamo fare partecipare a questo evento di Pesaro Capitale della Cultura. La serata racchiuderà un po' le caratteristiche del nostro festival che normalmente si svolge a luglio e faremo la prima serata invece il primo di febbraio nella chiesa San Martino di Petriano nelle Mura. Questa piccola chiesa storica racchiuderà un concerto di pianoforte tenuto da Cesare Donati e la corale di Gallo anche che farà una piccola introduzione. Invito poi anche tutti voi a fare una passeggiata all'interno del nostro percorso naturale giù a Gallo dove in questo percorso ci sono delle panchine dove potrete leggere delle poesie grazie alla poetessa Lilli che negli ultimi due anni ha portato in questo percorso delle poesie di poeti locali. Ma aspettando Petriano continua con grande partecipazione da pubblico la settimana da capitale della cultura di Vallefoglia. Le aree intonate da Mirko Palazzi nell'eresita al lirico sinfonico accompagnato dalla filarmonica Rossini diretta da Davide Missaglia hanno fatto da cornice musicale di un altro sold out per il nuovissimo Teatro Santi di Bottega. E la conferma di un fine gennaio davvero speciale per Vallefoglia capitale della cultura per una settimana e apripista del progetto di Pesaro 2024 50x50 capitale al quadrato. Un programma molto intenso, molto faticoso, molto denso di diciamo sei giorni tutte le sere alle 21 e si concluderà domenica con spettacoli importanti, la sera è un basso Mirko Palazzi di fama internazionale con radici locali se anche oggi vive a Roma e quindi tutte le sere è pieno di gente, siamo stati diciamo il primo giorno purtroppo dovuto forse faremo qualche replica perché tanta gente è rimasta fuori perché la capienza è 336 posti quindi su quello ci siamo limitati. C'è tanta gente che ha visto finalmente in quest'area un teatro importante che vale per tutti i comuni di questi 50.000 abitanti e che lavorerà insieme al teatro di Sant'Angelo in Lissola alla rete dei teatri marchigiani per dare una crescita anche culturale ad una comunità molto laboriosa. Un programma quello di Vallefoglia Capitale pronto ad offrire altri tre appuntamenti fra questa sera e domenica 28 gennaio. C'è il coro della città futura con la danza di Lisa Vergoni e pensiamo che sarà pieno anche domani sera e poi sabato c'è la compagnia di Alletale locale quindi rimarrà spero di no ma la gente fuori e poi domenica c'è il coro di Vucci Bianchi con i bambini e le famiglie quindi si concluderà molto bene. Non pensavamo qui di avere tutta questa gente perché non siamo a Milano siamo a Bottega di Vallefoglia e invece insomma è sempre pieno quindi ci inorgoglisce ancora di più. Gli animali domestici di Pesero e i loro padroni sono invitati domenica alle 11 in piazza del Popolo per la 33esima edizione della tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio a Botte un appuntamento come ogni anno organizzato dall'associazione delle giacche verdi. Non ci saranno solo cani e gatti ma in centro storico arriveranno come ogni anno anche asini, canarini, criceti e soprattutto cavalli perché ricordiamo che l'appuntamento muoverà con un corteo di cavalieri dal Parco Miralfiore a partire dalle 10 e 30. Alla testa del corteo è prevista anche la presenza della Polizia di Stato del reparto a cavallo di Firenze. Animali e proprietari riceveranno la benedizione dei frati minori del convento di San Giovanni. Social media e strategie digitali sono questi gli argomenti al centro di due rilevanti corsi di formazione proposti da Formacomf che partiranno a febbraio e marzo e che vi illustriamo in questa intervista. Confcommercio insieme a Formacomf, che è lente di formazione di Confcommercio, organizza due corsi per l'utilizzo dei social media, uno base che si terrà a febbraio ed uno avanzato che si terrà nel mese di marzo, aperto come dicevamo sia alle imprese associate che non. Ovviamente per le imprese associate il corso avrà un forte sconto ed è aperto sia agli imprenditori sia ai dipendenti di queste aziende. Il corso è molto importante perché al giorno d'oggi nell'era dei social per un'azienda non comunicare equivale a non esistere. Quindi Confcommercio ha voluto dare seguito alle richieste di imprenditori associati che chiedevano appunto di poter fare un corso del genere per imparare ad utilizzare i loro stessi social oppure i propri dipendenti. Il termine per le iscrizioni è il 31 gennaio. Il corso si terrà sia presso la sede Confcommercio negli orari pomeridiani dalle 14 alle 18 ma c'è la possibilità anche di seguirlo online. Per qualsiasi informazione potete contattare Confcommercio lo 0721 698 205 oppure alla mail segreteria chiocciola scompesaro.it E si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News. Come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla prima serata ancora in linea al tema di capitale della cultura. Rivedremo lo spettacolo inaugurale di Vallefoglia Comune capitale per una settimana, quello dello spettacolo La leggenda delle due montagne che di fatto ha tagliato il nastro all'auditorium Giovanni Santi di Bottega di Vallefoglia. Appuntamento alle 21.20. Poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con la rassegna stampa Buongiorno Rossini, rassegna stampa del sabato che sarà condotta dal nostro Marco Cadeddu. Altra diretta di Rossini TV è quella di lunedì 20, 29 gennaio quando vi proporremo le celebrazioni del giorno della memoria fra Teatro Sperimentale e Prefettura di Pesaro e Urbino. Una cerimonia che comincerà alle 9.30 con i saluti istituzionali che proseguirà con la consegna delle medaglie a famiglie di deportati alle 10.30 il contributo delle scuole di Pesaro al giorno della memoria. Una lunga mattinata in diretta anche sul nostro canale 80. Ed è davvero tutto per questa sera. Si conclude qui Rossini News. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.